Il coronavirus continua a uccidere in Irpinia altri due decessi nelle ultime ore, una 85enne di Montemarano che era ricoverata al Moscati dal 3 settembre e una 86enne di Grotta Minarda aspirata al pronto soccorso del Francipane di Ariano, dove era giunta per problemi non collegati al Covid ma successivamente risultata due volte positiva al tampone. Cinque le vittime in due giorni, scatta un campanello d'allarme preoccupante e i sindaci corrono ai ripari. Ad Avellino c'è attesa per l'esito dei 30 tamponi sui dipendenti entrati in contatto con il funzionario positivo. Il comune oggi è rimasto chiuso al pubblico ma intanto il consigliere d'opposizione Ettore Iacovacci denuncia che festa fa differenza tra dipendenti di serie A e di serie B. Io sento alcune voci che dicono che il dipendente la settimana scorsa è stato presso l'ente comune. Oggi non c'è nessuno che smentisce se il dipendente è stato al comune o no. Ma noi abbiamo le telecamere per visionarle e verificare se in questa settimana lui ha mai messo i piedi al comune. Uno. Due, non riesco a capire come mai nel comune una parte fa il tampone e una parte no. Lui diceva facciamo la caccia al virus. Io penso che lui fa la caccia alle streghe che è diverso. Quindi o ai rosiconi. Probabilmente sperava che i rosiconi prendessero il virus. Chiedo che il sindaco faccia fare i tamponi a tutti perché è un obbligo da parte sua. C'ha le tende, c'ha i serologici che non so se sono finito o ce l'ha ancora. Ma faccia qualcosa perché non può lasciare alcuni dipendenti di serie A e alcuni dipendenti di serie B. A Lauro Bossone è emanato un'ordinanza con la quale chiude i locali alle 22 e prevede restrizioni su matrimoni e funerali. A Mirabella e Clano tamponi non stop per arginare l'infezione con i contagiati che sfiorano quota 80. E a Cervinara Caterina Lengua giura da remoto e promette ci rialzeremo.